Assemblea regionale questa mattina della Sib Abruzzo appescara tanti gli argomenti all'ordine del giorno, tra cui la revisione della legge 77 al fine di incentivare la ristrutturazione degli stabilimenti balneari, le nuove progettualità per combattere l'erosione costiera ed il superamento della direttiva Bolkstein. Il problema della Bolkstein rimane comunque come una questione che deve essere ancora affrontata e risolta dal governo nazionale. La nuova legge dei 15 anni, qui in Abruzzo, ha trovato un'applicazione tempestiva anche rispetto ad altre regioni. La regione Abruzzo è stata la prima regione che ha emanato la circolare, i comuni abruzzesi sono stati all'avanguardia nell'applicazione della legge. Tutto questo non basta perché non bisogna semplicemente difendere quello che noi abbiamo. Dobbiamo eliminare completamente una situazione di incertezza perché la Bolkstein costituisce una spada di Damocle sulle imprese balneari ma affrontare anche le altre criticità, ad iniziare dal fenomeno erosivo che nelle prossime settimane sicuramente si ripresenterà in tutta la sua gravità. Oggi abbiamo detto al Presidente, abbiamo fatto delle richieste ufficiali. Noi abbiamo due comuni nella nostra regione, anche di più di due, forse tre. Non faccio nomi, però questi comuni non si possono arrocare il diritto di non rilasciare i titoli di Magnali perché in questo modo non consentono alle imprese di programmare un'attività che vada qui a oltre gli anni così come previsto dalla 145, cioè l'estensione della scadenza della concessione dal 2015 al 2033. Detto questo abbiamo chiesto al Presidente perché la regione Abruzzo ha fatto una circolare dove ha invitato i comuni ad adeguare. Inoltre abbiamo parlato della 77. La 77 lo scorso anno ha dato dei finanziamenti specifici soltanto alle strutture alberghiere e non a quelle extra alberghiere. L'extra alberghiere siamo noi, su 140 km di costa siamo 651. Su 651 vogliamo fare degli investimenti, ma se gli investimenti non ci consentono a noi di poterli fare, oggi, grazie a questa estensione della concessione, vorremmo rientrare nel circuito dei finanziamenti e abbiamo anche lanciato la nostra proposta. Non più contributi a fondo perduto, ma contributi in conto interessi. Questo è stato detto oggi al Presidente. È chiaro che noi saranno approfonditi da un documento e tutto il resto cercheremo di promuovere sempre di più la nostra attività alberghiere, e non è detto che noi entreremo in un circuito dove la presenza del bagnatore è di supporto alle strutture alberghiere.